Se posso raccontare un orrore che ho vissuto però, diciamo è stata ad oggi penso la mia esperienza culinaria più traumatica, è stato a casa di una mia collega, la madre della mia collega aveva preparato un piatto speciale per me e mi fa Roberto per questa occasione ti ho preparato la Siliotka Pot Shuboi E io tipo, tradotta ragazzi è l'aringa, letteralmente, aringa con la pelliccia, è un piatto che va servito freddo fatto con ingredienti quali? Aringa affumicata, carote, barbabietola rossa, maionese, maionese e altra maionese In Italia c'è qualcosa che non va, in Italia c'è qualcosa che non va Ecco la ricetta per il pollo alla braccia Il pollo alla braccia si intervista con una preparazione facile facile Il pollo viene sottoposto ad una serie di domande ed è aperto sul lato della pancia Poi viene battuto con un batticarne, specialmente sulla zona dei ali e delle cosce e stuzzicato con altri quesiti In questo modo si facilita tutta l'intervista che può venire sia alla braccia che via podcast I nostri polli sono allevati in Italia e trattati all'estero, ma tranquilli, sono tutti di categoria DopeCast Andate a cagare, vaffanculo Non riesco a dire a fare la categoria Sono tutti, sono tutti di funità Ciao ragazzi, come state? Poi metteremo un po' di dietro le quinte Che oggi è di dietro le quinte Sì, poi mi dite chi è il proprietario di quel cane che si sentiva prima, ecco Magari il nome Tanto tornerà, tanto tornerà Tanto tornerà Ciao ragazzi, come state? Non ci vediamo da dieci giorni, una settimana? Te come stai? Com'è? È caldo, là? Caldissimo, qui a Budapest, sì, meno 14, caldissimo proprio Ti vedo che stai sudando Sì, sì, caldissimo qui, caldissimo proprio safara, proprio così Oggi il caldo è un topic importante della puntata Il caldo ricorrerà abbastanza Eh sì, quindi ci riscaldiamo In questa puntata ci sarà un guest che ha fatto tanta esperienza Quindi un italiano che ha fatto tanta esperienza a livello internazionale Vedremo, vedremo cosa ha fatto nella sua vita fino ad oggi E che è che fa l'intro oggi? Che è che ha l'onore di introdurre? Io? Io? Ok Io? Pronto? Sei caliente? Prontissimo, prontissimo Dimmi, dammi il via dalla regia Sì, ci siamo Via Da Pozzallo Ragusa Si sposta a cercare fortuna a Roma Inizia l'università E vince al secondo anno Una borsa di studio per Mosca Ma non finisce qua Stanco nel caldo umido In cerca di motivazioni Decide poi di andare nella città più Fredda Più popolosa Scusate Al di sopra del circolo polare artico Murmansk Per stare al fresco Così facendo Un'esperienza formante Ma i geloni a mani e piedi lo fanno rientrare La vita poi ha deciso di portarlo a Lisbona Dall'estremo est All'estremo ovest Europeo Il pollo del giorno È Roberto Licitra Un applauso Un applauso Un applauso Grandissimo Che professionalità Cioè sembra un prof anche lui Brava, ma guardalo Modestamente Il chiesto più settato di tutta la prima serie Diciamo Lui era tutto lì pronto Col suo sfondo Dobbiamo dire che Il salotto dietro è vero Cioè quella è casa sua Lui vive nella batcaverna Prova a buttarti Assolutamente tutto vero ragazzi Tutto ciò che vedete Rispecchia la realtà Dal mio salottino Qui a Los Angeles Tutto bene Los Angeles Non era in programma la scaletta Los Angeles Io ero E che talifono a Los Angeles Nel passo è breve Babba mia Babba mia Disseminiamo un po' di confusione Come stai Roberto Tutto bene ragazzi Io innanzitutto vorrei scusarmi con voi Perché insomma non avete mai avuto Tutti questi problemi di settaggio Eccetera Quindi occhio malocchio Prezzemolo e Finocchio E speriamo che non ci siano problemi Finocchio è un po' obsessivo eh E le GBPQ Non volevo offendere nessuno Babba mia Tutto bene ragazzi Detto questo Allora stiamo tutti bene Il settaggio va bene Onde evitare di perdere la connessione E evitare che il cane Che avete dietro le quinte Inizi ad abbagliare Io vi direi di iniziare Perché abbiamo una serie di domande Abbiamo lanciato un osso Al cane Abbiamo lanciato un osso Tranquillo È la nostra mascotte Roberto Quindi onde evitare di perdere del tempo Io inizierei con le domande del giorno Darei l'onore e il piacere di iniziare Con la prima domanda al nostro man Man io ti do la prima domanda E tu vai Iniziamo l'interview con Roberto Allora andiamo proprio sull'Isity Come ti è venuta l'idea di parlare questa linguastrusa Quale il russo Cioè Potevi parlare ungherese Cinese Giapponese In russo E come sei arrivato a Murmansk Piuttosto Invece di San Pietroburgo Mosca Cioè Chi la conosce Murmansk? Cioè Come sei venito in quel paesino? Beh Innanzitutto l'idea di Iniziare ad apprendere il russo E Ho iniziato ad avercela Verso gli ultimi anni del liceo Studiavo Insomma Mi sono sempre piaciute le lingue In generale Anche quelle morte Quindi latino e greco E E così mi incuriosiva un po' Sia la cultura dell'est E ho iniziato poi L'università a Roma Potevo scegliere tra Cinese Russo Come dicevi tu Anche altre lingue Però ho deciso di dare priorità al russo E Diciamo Non me ne pento Mi piaceva molto il suono La cultura La storia Della Russia Le donne E Murmask Le donne Per morti Intendi le gatte morte Quindi le russe gatte morte Oppure intendi proprio le lingue Ti piaceva la lingua O ti piacevano le lingue In generale Farò un commento impopolare Mi piaceva più la lingua Che le donne Per me l'interview finisce qui Dai Mamma mia Mamma mia Bene 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 Ma perché proprio a Murmask? Beh diciamo Io avevo già avuto Un primo contatto con la Russia Al secondo anno di università Avevo Avuto la possibilità di studiare tre mesi All'università statale di Mosca E Quella prima esperienza Aveva lasciato Comunque Un segno importante E positivo Dopo un po' di anni Diciamo Non trovavo il lavoro Non trovavo un lavoro Diciamo che Mi rendesse Contento Mi contatto una mia amica E mi dice Senti Robè Ho una mia amica Che ho conosciuto in Erasmus Che lavora in una scuola A Murmansk Nel nord della Russia L'ha chiesto a me E io ho detto Col cavolo Che vado a Murmansk Che ne pensi di Di andare tu in esilio E gula Che sovietici E io ho detto Guarda Sai che c'è? Ci sto E quindi è stata Diciamo un'opportunità Così Improvvisa E ho detto Sai che c'è? Dai Proviamoci Proviamoci Nel frattempo Mentre che parli Pure per far capire Alle persone che ci stanno Sentendo E seguendo Dove si trova Murmansk? Ragazzi Da siciliano Perché Roberto è siciliano Roberto è andato a finire Nell'estremo nord Dei paesi Scandinavi Al confine Con la Norvegia E la Finlandia 300 chilometri Dal confine Con la Norvegia Ma anche abbastanza Vicino Alla Finlandia Io ci ho fatto il viaggio di nozio Ho pagato un sacco di soldi E mi ricordo solo il freddo Freddo Assurdo Che ho vissuto lì in Norvegia Quindi posso solo capire E infatti Io Che abbiamo fatto qui Abbiamo cercato su Wikipedia La temperatura media annua Di Murmansk Diciamo che non siete messi bene lì a Murmansk No? No Non tanto Non tanto A terra posto le grigliate non si fanno Beh Ti sorprenderà sentire il Per il contrario le fanno Le fanno sia a ferragosto Che fino a Anche a novembre Riesci a trovare qualche coraggioso Che le fa Grigliate di ghiaccio Ghiaccio è la specialità Ma sì sì grigliate Io addirittura ne ho fatta una Ricordo Su un lago ghiacciato Ho fatto una grigliata su un lago ghiacciato Mentre pescavamo Facendo i fori Sulla neve Quindi sì È stata Un'esperienza interessante Mistica Quasi E avete preso un sacco di pesci Immagino Tantissimi Beh guarda In realtà Siamo partiti con le buone Le più Buone intenzioni Io e altri Altri miei amici Che ho conosciuto lì Russi Siamo andati In questo lago enorme Bellissimo Stati stesa di ghiaccio E ho provato Ho provato l'esperienza di fare la lunca Come la chiamano loro Che è il foro sul ghiaccio Che si fa Diciamo Trapanando il ghiaccio E poi Piazzando l'esca Beh la cosa divertente di quell'esperienza È che siamo stati lì per circa sei ore Armati di due bottiglie di vodka Che sono finite Terminate Inesorabilmente entrambe Abbiamo fatto Esattamente Una grigliata lì E La cosa divertente è che abbiamo preso soltanto un pesce Un pesce di queste dimensioni Non dimenticherò mai che questo pesce si dimenava Poi ho dissolto lo sguardo Ho rivolto lo sguardo dopo due minuti Il pesce era stecchito immobile già congelato Assurdo Assurdo Ma come l'hai vissuto il freddo Da siciliano L'impatto Cioè mi fa piacere Un attimino Magari Se vuoi spiegare Com'è stato l'impatto Il primo giorno a Murmask Perché mi ricordo Quando sono arrivato qui A Budapest Il 10 febbraio Del 2016 Lontano 2016 C'erano meno 14 gradi E da siciliano Lì è stato un impatto Assurdo Quindi come hai vissuto questo Meno 14 gradi Mi ricordo anch'io Mene Mi ricordo anch'io Come hai vissuto Qual è l'impatto di lì L'impatto Devo dire la verità È stato positivo Perché comunque Venendo dal sud Italia Dalla Sicilia Il caldo È un problema Io arrivai a Murmansk Il 31 agosto Del 2015 E Quella è stata Un'estate Abbastanza calda Abbastanza per utilizzare Un eufemismo Quindi quando sono arrivato In Russia Che c'erano Mi pare 16 gradi O 18 gradi Ho detto Si possono dire le parolacce? Vai vai Non è proprio una verità Ho detto Minchia Ho detto il mio prima minchia Oltre il circolo polare Artico Uno dei primi minchia Oltre il circolo polare Artico Ho detto Finalmente Finalmente Qua si può respirare Poi certo La situazione è un po' cambiata Nei mesi più freddi In cui Diciamo Già il lontano ricordo Del sollievo Dal caldo E dalla festiva Avevano lasciato il posto Al terrore Del grande Freddo russo E che poi La domanda che mi viene adesso è Come si dice Minchia In russo Beh loro Generalmente dicono Bliat 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 Quindi ricordiamo ragazzi Per Bliat Dice Minchia In russo Va bene Quindi tu Il russo Lo parli Tranquillamente Giusto? Sì Lo Diciamo Lo parlavo Tranquillamente Adesso Ho meno Occasioni Di Parlare E di Esercitare La lingua Purtroppo E Diciamo A livello Di ascolto Non ho problemi A livello Di produzione Orale Come voi Sapete Diciamo Quando Non eserciti Troppo La lingua Un po' Vengono più Difficoltà Bene Allora La seconda Domanda del giorno È Cosa consigliereste A chi vuole imparare Il russo? Al pazzo Che vuole imparare Il russo? Io metterei questo Al blit Che vuole imparare il russo Parto dal presupposto Che in realtà Questo consiglio Si può applicare A tutte le lingue E cioè Di avere Di sentire Una vera passione Per la lingua E non Separarla mai Dalla cultura Di cui è portatrice Abbiamo un filosofo Ragazzi Abbiamo un filosofo E allora Guarda Mettitela così Esatto Qual è il proverbio russo Che ti piace di più A questo punto? Dai Te la metto lì Così Beh Adesso Al momento Non me ne vengono Però se durante la puntata Mi viene Te lo dico Va bene Allora Ne conosco Ne conosco diversi Ne conosco diversi Tanto va la gatta Al gulag Che ci lascia No Non c'è Sicuramente Durante qualche altra risposta Te lo metto nel mezzo Vai Bravissimo Allora Ricordatelo Cambiamo argomento Cambiamo nazione E le persone che ci seguono Vogliono capire Come sei finito Dalla Russia Al Portogallo Quindi poi Adesso tu Dove vivi? Tu vivi a Lisbona Ho capito che vivi lì Cioè come Che è successo lì? Cioè L'italiano che sta Seduto sul divano Adesso si domanda Ma questo qui Cioè dalla Russia Da meno 24 Com'è che è finito A più 26? Qual è il problema Nella tua testa? Di Racconta Dici Da ragazzi altissime Bionde Capito? Cioè No beh È stata È stata una scelta Graduale Diciamo Non c'è stata Una Una netta linea Di separazione Andiamo Partiamo dalla Russia Andiamo in Portogallo Sono state Diciamo Sono stati eventi Graduali Io Ho lavorato in Russia Un anno Per un anno Dopodiché Sono tornato In Italia E poi Sono accadute varie cose Sono stato Quasi tre anni In Sicilia Lavoravo come Traduttore Occasionalmente Freelance E Insomma È un problema Purtroppo Quello anche Della disoccupazione Della stabilità Che noi In Italia Al sud Soprattutto Conosciamo bene No ma come Davvero No Sì purtroppo È stanco Stanco un po' Di questa situazione Ho iniziato a inviare Curriculum Ovunque In tutta Europa In tutta Europa La prima impresa La prima azienda Che mi ha contattato Era qui In Portogallo Io tra l'altro C'ero già stato In Portogallo Mi piaceva Avevo lasciato Un bel ricordo Ho detto Ma sì Andiamo Dall'estremo nord All'estremo ovest Perché Ma che sia estremo E come mai Se visto che Ti era piaciuta Così tanto L'esperienza Non sei tornato In Russia A quel punto Dopo Che stavi cercando Lavoro all'estero È stata Una bella esperienza Però Ho capito Anche dopo Quell'esperienza Che Per quanto Io rispetti Ami L'est Appartengo Comunque all'ovest Mamma mia Qua c'è razzismo Però È una questione È una questione Di dimensioni È una questione Di dimensioni Anche Nella 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 Quotidianità E Ve la metto Anche Diciamo In questo modo Dimensioni Ce la metti Occhio Sì Non mettiamole Nella stessa frase Ve la pongo Così Ok Anche dal Dal punto di vista Ad esempio Dell'architettura Ragazzi Io Tanta stima Per l'est Ma Per chi è cresciuto In Italia Tra le piazze I giardini Le viuz Le stradine I baretti Le caffetterie I ristorantini Insomma Quando Quando Non li vediamo Quando non li vediamo Ci mancano A me mancavano molto E Alla fine Anche questo Questa cosa Ha preso Un po' Il sopravvento A me manca Il brutalismo Effettivamente Il brutalismo Eh beh La direttora No Sovietica Il cemento Sì no È bello È bello I primi I primi mesi Forse Inutile Anche lì Ci sono A Murmask Ci sono I palazzoni Blocchi No Di nove piani Ma considera Io non capivo C'erano volte In cui dicevo Io sto palazzo L'ho già visto Eppure sono al nord Nel quartiere nord Della città Ma è identico Stessi balconi Pure la signora Era uguale Che usciva Ma questa signora L'ho pure vista Cioè Sembrava un coso Sicuramente Quindi diciamo Molta ripetizione Cioè tu calcola Che Budapest Comunque ha vissuto Per anni Mettila così L'invasione russa Oppure l'influenza russa E quindi Ho la stessa sensazione Quando esco di casa Che io vivo In un distretto In periferia Di Budapest E palazzoni In effetti Se vai in periferia Però se stai in centro No Solo in periferia In centro No in centro È molto più Vecchio stile Palazzoni più fighi Sai tipo I palazzoni Con i tetti alti Però se vai già In periferia Come la mia Hai blocchi di palazzi Di nove piani Tutto uguale I parchi uguali Tutto sistemato Che io da siciliano Dico Il parco Cioè io un giorno Porterò mio figlio Al parco Qui È un parco funzionante Lì in Sicilia Se fai un parco Dopo un mese Ti lascio nel bigliettino Che ho scritto Grazie tante La palestra All'aperto Me la sono fatta Nel mio giardino Grazie Capisco Forse Roberto Perdonami Stoppami Se dico una cavolata Ecco Poi la bippo Però A volte ho la sensazione Quando vivo nel centro-est Quindi quando vivo qui Ho la sensazione Di avere Una città Troppo funzionante Rispetto Alla Sicilia Dove Dove Per esempio Quando aspetti Un bus Aspetti per tre quarti d'ora Poi magari chiedi Alla vecchietta Che passa Con la verdura In mani Dici Ma signora Ma l'autobus E l'autobus Aspetti L'autobus A me è quello Che mi manca A Lisbona Invece Vedi A me questo È quello Che mi manca A Lisbona E la possibilità Di gli autobus Quindi Allora Fatemi capire Riassumendo Roberto Ha scelto Di cambiare città Da Murmask A Lisbona Proprio per Per rientrare Nella cultura occidentale C'è la cultura Del bordello Ecco Confermi Il caos Alla fine A chi non piace Il caos Noi non facciamo Giochi di parole Pericolosi Che a chi non piace Il caos Però effettivamente Come dici tu La funzionalità Che c'era La puntualità E tu dici Cazzo Stai lì Diciamo Un'espressione siciliana Un pezzi Scarpusignuri Che significa Proprio Lontanissimo Lontanissimo Eppure I tram Gli autobus Tutto in orario Perfettamente funzionale Pure le ragazze Agli appuntamenti Giusto Tu davi un appuntamento Cioè davi l'orario Ci vediamo alle sette In quel pub Alle sette meno cinque Quella Stangona russa Si faceva trovare davanti Il pub Giusto? Sì sì Ma lì anche gli ubriachi Sono in orario Lì è una cosa incredibile Diciamo Non sono ritardatari Come noi Sono precisi Mamma mia Esatto questo punto Di vista Senti una domanda Una domanda veloce Perché Ci è sfuggita un attimino Magari te la rifacciamo adesso Ma quanti Quanti italiani eravate A Moore Musk E cosa c'era di interessante In questa In questa città E già il nome di suo È interessante Da quello che Che sapevo Che so Eravamo due italiani Due italiani C'ero io E poi Spizzaiolo No Era un fotografo Un fotografo Che si era sposato Con una russa Con una russa E si era trasferito Lì E quella russa Quella Quella signora Studiava spagnolo Nella lingua In cui io lavoravo Addirittura Allora Aspetta Apro una parentesi Lascio un attimo Gli italiani da parte Ragazzi Io sento in sottofondo Il cane Del vicino Del man Cioè ogni volta Che Roberto Apre bocca C'è sto cane Bau 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 Ma Cioè Non gli posso Sparargli Non No 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 Perché Ci mettiamo contro Il gruppo animalisti In Italia No Lascia stare Non tocchiamo sto tasto Per favore Perché ho anche Degli amici lì Per favore Perdonami Roberto Dovevo aprire una parentesi Così ci facevamo pure Pubblicità Con il gruppo animalisti Dai Noi siamo pronni Tranquilli Non lo uccidiamo Il cane Non vi preoccupare Perché questo è un pollaio Non è Non è un canile Quindi E a proposito di pollo La tua dieta In Russia Se ci vuoi spiegare Un attimino Cosa mangiavi Cosa trovavi Nel supermercato Cosa evitavi La prima cena Che hai fatto Con una ragazza Cioè al di là La vodka Esatto A parte la vodka Che comunque Era componente Necessaria Beh io ho cercato Diciamo Anche nell'ambiente Domestico Di mantenere la cucina La nostra cucina Per quanto possibile Quindi mi ricordo Che c'era un Un supermercato Che aveva molti prodotti Di importazione Italiana E quindi Cercavo di mantenere Un po' L'asticella alta Anche perché Insomma La cucina russa Non sono estremamente famosi Per la loro cucina Il motivo c'è Posso dire Ad esempio Che Mi piace molto La famosa Insalata russa Che è Diciamo Una cosa Che Conosciamo Ma lei non si chiama Insalata russa Si chiama Olivier Olivier Che prende il nome Si dice Dal cuoco Di uno zar Che aveva inventato Appunto Alla corte degli zar Questa Questa ricetta E poi era diventata Diciamo Una cosa Che veniva esportata All'estero E conosciuta da noi Come insalata russa Quella la fanno bene Benissimo E come si diceva Minchia Bliat Bliat Capito Però Diciamo Il mio incontro Con la cucina russa È stato Così Un po' Superficiale Però andavo Spesso a mangiare Anche quando Quando non potevo Mangiare a casa Nelle pause Andavo a mangiare In una stalovaya Che è praticamente Una Mensa Il modo In cui loro Chiamano La mensa E devo dire In quei posti Umili Si mangiava meglio Che in alcuni ristoranti Perché a volte Magari il ristorante Ti vuole sorprendere Vuole fare così E non ci riescono Almeno Noi italiani Siamo un po' difficili Da questo punto di vista Se posso raccontare Un orrore Che ho vissuto Certo Però Vai E diciamo È stata Ad oggi Penso la mia esperienza Culinaria Più Traumatica È stato a casa Di una mia collega La madre della mia collega Aveva preparato Un piatto speciale Per me E mi fa Roberto Per questa occasione Ti ho preparato La siliotca pot Shuboi E io tipo Lì Tradotta Ragazzi È L'aringa Letteralmente Aringa Con la pelliccia È un piatto Che viene Che va servito Freddo Fatto con Ingredienti Quali Aringa Affumicata Carote Barbabietola Rossa Maionese Maionese E altra maionese È una cosa Ragazzi Apocalittica Apocalittica Ho avuto Molta difficoltà A mangiare Quella Siliotca pot Shubi L'ho mangiata Per educazione Non contenta La madre La madre La madre Mi fa Mi fa Ho visto che l'hai finita Ne vuoi un'altra fetta Io No guardi Sono sazio Buonissima Però Lei ha insistito Ne ho dovuto mangiare Due Ragazzi Sono arrivato a casa Distrutto Distrutto Quindi ragazzi Se andate in Russia E volete fare Diciamo Un'esperienza Fuori dal comune Con sapori Fuori dal comune Provate Siliotka Pod Shubi Quindi Scusami Questa è la cosa più strana Che hai vissuto in Russia O magari ce ne vuoi raccontare un'altra La Russia È un paese di stranezze Ci sono varie cose strane Questa è fra le cose strane E traumatiche Però ad esempio Un'altra cosa strana Che è successa Due cose strane Due episodi Diciamo Un po' correlati Sono i vicini di casa I vicini di casa Sono una roba stupenda Io mi ricordo una volta Nella prima casa In cui In cui stavo Avevo Bisogno di una scodella Una scodella Perché mi era avanzato Del cibo Erano tipo le dieci di mattina Esatto Per conservare Mi serviva del cibo La ringa del giorno Roberto Licitra Bellissimo Non più polli Ma ringhe Esatto E quindi Esatto E mi serviva Sta scodella Allora vado Dal vicino Mi apre il vicino Prima mi guarda Sospetto Poi Insomma Capisce che sono straniero Parlo russo Loro apprezzano moltissimo Quando c'è qualcuno Che parla la loro lingua E mi invita ad entrare Entro Quindi io dovevo andare solo lì A chiedere la scodella L'ho chiesta Lui mi ha invitato E mi dice Ma dai Forza Facciamo colazione insieme E ho detto Vabbè dai Che gentilezza E allora dice Ma dov'è la stranezza Perché questo lo faremmo anche al sud La stranezza sta nel fatto che La colazione È stato Una crepe con salmone E già questo per noi è un po' insolito E vodka Cioè La mattina Il vicino di casa Che era un sabato mattina Che io non lavoravo Mi ha invitato a fare colazione A trattare e parlare di geopolitica Dopo una bottiglia di vodka Sono uscito lì a mezzogiorno ubriaco Ma certo E con la scodella Ma con la scodella Quindi stranezze Quei sono Comunicione e compiuta Bellissima la scodella Scusate ragazzi Man non ti sentiamo Tu gesticoli Non so se hai fatto Ti rompo il culo Ti brucio la vodka Non lo so Però non ti sentiamo Mi senti? Adesso sì Volevi dire qualcosa così Il bucio di culo Che volevi dire? No Ho detto Che sei uscito Da lì Ma che ci Che ci faccio Con questa scodella Che manco te lo ricordavo Sì ma Poi è bello Perché i vicini Sono sempre stranissimi In un altro episodio Lo racconterò brevemente E nell'altra casa E lì ho notato Che c'era un fil rouge Che collegava Evidentemente Le cose Insomma Mi serviva Un'apribottiglia Non ce l'avevo Nella nuova casa Serviva St'apribottiglia Allora vado Dal nuovo vicino E apre la porta Una signora Sulla sessantina Così Mi guardava In maniera circospetta Così Prima cosa Io ovviamente Mi sono presentato Stretta di mano Mi ha bloccato Mi ha bloccato Perché sono molto superstiziosi Dici Ma perché? Perché praticamente In Russia Non si può dare La stretta di mano Quando il proprietario Di casa Sta dentro L'uscio Cioè Sta dentro la casa E la persona Sta sul corridoio Perché porta sfida Ah è fuori gioco È fuori gioco Non si fa È fuori gioco È offside Quindi Mi ha fatto entrare E mi ha dato la mano E io ho detto Salve Molto piacere Così Ne fratebo Dietro la signora Una scena indelebile Nella mia memoria Dietro la signora C'era Un cucino Un salottino Con un divano Sul divano C'era il marito Della signora Con una panza enorme La bottiglia di vodka Su un tavolino Che mi guardava Tipo Che significa in russo Chi è questo? Chi è questo? No 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 Prova a dirlo in russo Prova a dirlo in russo Mi fa Kton Kton Che significa Chi è lui? E io ovviamente Mi sono presentato Così da lontano Col signore Pansone Russo Molto molto divertente Questa scena E comunque sono tornato Vittorioso Senza vodka Ma con il cavatappi Quindi Le vicine Le dieci di mattina Anche là Nove e tre Andranno No quello penso fosse di sera Perché Era dopo il lavoro Sì mi serviva un cavatappi Per bere del vino bianco Era un venerdì sera Probabilmente Ok Mi hai fatto un assist Per la prossima Per la prossima domanda E magari lascio il prof L'onore di farti questa domanda Prova a prof Perché la cultura italiana È così famosa In Russia Questa è una domanda È una domanda Interessante Un sacco di gente Se la chiede Cultura italiana Anche Diciamo Un tipo di cultura Che noi identifichiamo Certe volte Con il trash Perché Prende tante sfumature Dice Ma perché Albano e Romina Di tutti i cantanti Che abbiamo Perché Albano e Romina Ma quanto è stato bello L'anno scorso Quando hanno fatto Quella festa di Capodanno A stile Trash italiano Giusto? Eh L'hanno fatto L'hanno fatto Seguendo anche l'idea Che è rimasto Nell'immaginario russo Più Più nello specifico L'immaginario sovietico Quindi Negli anni 80 Negli anni 80 Fino agli anni 80 L'Unione Sovietica Diciamo Includendo anche Paesi che adesso Sono indipendenti Era un blocco Chiuso Chiuso dall'occidente Separato E come si collega Questo A Alla popolarità Di certi artisti Italiani Della cultura italiana Perché praticamente Il festival di Sanremo È stato Il primo evento Occidentale Che è stato Trasmesso In Russia Trasmesso Nell'Unione Sovietica Addirittura Doppiato Doppiato Sottotitolato Live E quindi Praticamente La prima idea Di musica straniera Legale Ufficiale Che i russi Ma anche Dei paesi baltici Della Bielorussia Eccetera Hanno avuto È stato proprio Albano e Romina Che erano in voga Partecipavano I festival di Sanremo Ricchi e poveri Conoscono Conoscono Anche Toto Cutugno Che è una star È la prima musica Occidentale Che è filtrata Durante Gli anni della perestroica Quindi Pupo Gli italiani Pupo Gelato al cioccolato Dolce un po' salato Loro fanno con una Monedica Bellissima Buona questa pasta Con i frutti di muare No? Bellissimo L'accento russo Ma ma quindi Noi Quindi Siamo conosciuti Dalla Russia Dal 1980 Da Albano Romina È Toto Cutugno Quindi loro hanno Quelle immagini Degli anni 80 Dell'Italia Ecco Sì Sì Ricordo anche Una mia professoressa All'università Lei Ucraina Ai tempi Però Unione Sovietica No? E lei mi diceva Ai mi ricordo Questi ragazzi italiani Con questi sciarponi Attorno al collo L'uomo russo L'uomo dell'est Non Non Utilizza molto Non è molto Non senti freddo Non senti freddo A parte quello La vodka Che se bevono Ma non Non li vedi Con le sciarpe Non si acchittano Come si dice Da noi Come lo facciamo noi E poi Anche una cosa Che a loro Piace molto Ma per chi è stato Nell'est Europa Penso che Possiamo andare Possiamo fare un discorso Più ampio E il fatto che noi Siamo gioviali Ridiamo E La cultura La cultura Del sorriso È una cosa Che li affascina Tantissimo E a proposito Mi ricordo Adesso Di un'espressione Russa Che è praticamente Smiech Biespricini Prisnak Durecini Cosa significa Che Il sorriso Senza una ragione Il sorriso Senza una ragione Sorridere Senza una ragione È un segnale Di stupidità Cioè Quindi questo È Per Risos abbonda In oram Sul thorum Esatto Quindi riso abbonda Nella bocca Degli sciocchi Che è una cosa Che da noi Si utilizza In maniera Molto Diciamo Si è quasi persa Nell'uso Tradizionale Nostro italiano Si utilizza poco Mentre in Russia Questa espressione È molto popolare E descrive Moltissimo Il carattere Russo Dell'est In generale Sorridono poco Perché pensano Che spesso Il sorriso Implichi anche Una certa Sfumatura Di superficialità Delle persone Mentre da noi No Da noi Sei Tremendamente Noioso Se non sorridi Wow Mentre criticano I russi Che fanno questo Però sono affascinati Allo stesso tempo Da noi Che lo facciamo Diciamo Di naturale In maniera naturale Bene Ma a parte I sorrisi A parte Il fascino Che l'Italia Esporta In tutto il mondo Come Come ben sai Magari I miei colleghi Mi lasciano Anche l'opportunità Di introdurre Un piccolo Un tema Attuale Importante Ai giorni D'oggi Che è Quello che L'Ucraina Sta vivendo In questo periodo Proprio A discapito Della Della Russia Noi Quello che volevamo Chiederti È Un tuo piccolo Parere Su Cosa sta succedendo Lì In quel confine E se poi Magari Hai Hai anche Degli amici Russia Che ti raccontano Come stanno Vivendo La guerra Il momento Non vogliamo Chiederti Da che parte Stai Vogliamo solamente Chiederti Se hai qualcosa Da dirci Qualcosa Che i tuoi amici Russi Ti hanno Ti hanno detto Ecco in privato Beh Questa è sicuramente Una domanda complessa Su un argomento Estremamente complesso E doloroso Io posso Dirti una cosa Posso dirvi una cosa Il primo errore Che si fa Nel trattare Questo argomento È essere tifosi Di una parte O dell'altra Essere tifosi Dell'Oriente E dell'Occidente Questo già Se si parte Da questo presupposto Noi buoni Loro i cattivi O viceversa Già si cade In errore Detto questo Detto questa premessa Ho parlato Con vari Amici E conoscenti Russi Nello specifico Persone Di Murmansk E Murmansk Proprio per essere Una città Abbastanza giovane È stata L'ultima città Fondata dagli zar Nel 1916 Ha Una popolazione Molto mista Quindi ci sono russi Ci sono molte persone Anche per il fatto Che vive vicino Alla Finlandia Comunque stanno Molto vicini Col confine Comunque Sì Anche se L'etnia finlandese Non è tanto presente Ma ci sono Moltissime persone Di origine Ucraina Anche a Murmansk Anche in tutta la Russia Quindi Molte persone Con cui Io mi sento Molti amici Sono rimasti Scioccati Quando Sono iniziate Le ostilità Perché comunque Ci sono tantissime Persone in Russia Che hanno Gli zii I nonni Parenti In Ucraina E quindi ovviamente È come una guerra Fratricida Sono Due popolazioni Molto interconnesse Che fino a vent'anni fa Era lo stesso Stato E quindi Per questo La situazione È molto complessa Anche dal punto di vista Dei russi Che A loro dire Operano Fanno questa operazione Militare speciale Che di fatto È una guerra A loro dire C'è una parte di vero Perché Quelle popolazioni Dell'Ucraina Quelle Fette Grandi Di Ucraina Hanno Moltissime persone Di etnia E cultura Russa Quindi Loro in una maniera Diciamo Anche se È la verità Imperialista Cercano di giustificare La loro azione Con questo Molti Credono Alla propria Propaganda C'è molta Propaganda In Russia C'è molta Propaganda Anche qui Da noi E E Poi ci sono Anche tantissime Persone Che sono Contrarie Al conflitto In Russia Ma Non hanno Abbastanza Voce O forza Per poterlo esprimere Quindi Perdonami Ti Faccio una domanda Faccio una domanda Chi è che va Stai a fare tutte le domande Tu Scusa Vai 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 Ricollegandoci Al discorso Che stavi dicendo Che quindi sta facendo Che quindi è più che altro Un modello imperialista Se Secondo te La differenza Tra il vecchio regime Sovietico Che Era un modello Comunque Possiamo dirlo Imperialista Anche quello Ma comunque Andava a allargare E quant'altro Alla situazione Politica attuale Per uno Che ci ha vissuto All'interno O Per te Che lo stai sentendo Quindi Magari anche Non collegato Alla guerra in sé Ma La sentono la differenza I russi Dall'unione sovietica precedente Allo stato attuale Con Putin Ci sono istanze Differenti La Russia È un paese Diciamo che Come tutti I più grandi Le superpotenze Del mondo Tendono sempre A difendere I propri interessi In questo caso Con l'Ucraina La situazione È più complessa Perché Loro pensano Molti russi In realtà Dentro Dentro di sé Pensano che Quella parte di Ucraina Sia de facto Russia Storicamente Per via Delle persone Che popolano Quelle zone Quindi Per questo Dico La situazione È molto complessa Non è sicuramente Facendo i tifosi O Demonizzando Demonizzandoci A vicenda Che si uscirà Da questo incubo Quindi Molto molto difficile Speriamo ovviamente Che Si siedano Che abbassino Un po' Il loro orgoglio Entrambi i blocchi E che si Arrivi a una situazione Pacifica È lontano Da Escalation Spaventose Hai ricevuto Qualche Aggiornamento Da parte Di tuoi amici Amor Musk O qualche Altro amico In giro Per la Russia Qualche realtà Che magari Ha perso Qualche familiare O magari Qualche familiare È dovuto Scendere in campo Cioè Hai di queste realtà Hai di queste Info Ecco Non ho avuto Contatti con persone Che sono andate In guerra O che conoscono Familiari Che sono andate In guerra Ma ho persone Che Mi hanno detto Una mia collega Una mia ex collega Che mi ha detto Appunto Che il Il villaggio Dove i nonni Di lei Abitavano È stato bombardato Quasi raso Al suolo Quindi ovviamente Ci mettiamo In una situazione Molto complicata Perché Questa Collega mia È russa Di origine Ucraina Come lei Tante altre Dicono Ma che fate Cioè Mi sarebbe Lì c'è mia nonna Dai nonni Per fortuna Scusami Per fortuna Insomma Sono andati via Hanno avuto modo Di mettersi in salvo Ma comunque Fa un po' strano Quando tu parli Con persone Che dice I miei nonni Sono là Il mio stato Li sta attaccando Insomma Non desideri Altro che Sarebbe esagerato Unito e con frontiera Nella domanda Che volevo fare prima Ma Sarebbe esagerato Considerare È una mezza provocazione Per carità Perché Daniele Non è mai provocante No Io no Sarebbe sbagliato Considerare i russi Cioè Il popolo russo In questo caso Proprio per quello Che hai detto te Vittime Loro stesse Anche del conflitto Cioè Nel senso Stavamo dicendo Un discorso È un po' Un discorso Di orgoglio È un discorso Molto imperialista Però i russi Stanno subendo Non solo L'odio mondiale Per propaganda Che è stata portata avanti No Eccetera Ma anche Effettivamente Loro stessi Stanno perdendo Familiari Stanno perdendo Parenti Non solo per il fronte Ma anche per i parenti Che effettivamente Sono poi in Ucraina C'è un fondo di verità C'è un fondo di verità Sull'invasione Perché di questo si tratta È un'invasione Questo è Non lo mette in dubbio nessuno Ma c'è un fondo di verità Nel senso che Quei territori Come dicevo prima Sono molto importanti Per loro Anche per questioni Di cultura In comune E quindi Come si dice Il conflitto è iniziato Nel 2014 Quando Nel Donbass Hanno iniziato A chiedere autonomia Cosa che il governo Di Kiev Ovviamente Ha detto A big no no E lì L'escalation E anche Diciamo Il fallimento Di altre operazioni Diplomatiche Hanno portato Poi All'esplosione Di questo conflitto Si è cercato Sull'indipendenza Della Crimea Ho avuto La percezione Che i russi Fossero molto Compatti Addirittura Lanciarono Un hashtag Che È Crimnash La Crimea È nostra Quindi era Una cosa Molto popolare Che andava Anche al di là Della propaganda Proprio I russi Lo sentivano molto Con il Donbass La situazione È più complessa Però Mi ricordo Che prima ancora Che Insomma Succedesse Tutto Tutto questo Disastro E prima ancora Di andare a Murmansk Parlai con varie persone Di Danetsk Che è una delle città Che adesso È in mano ai russi E loro mi dicevano Guarda Noi non vogliamo Essere russi Non vogliamo essere ucraini Vogliamo però Un'autonomia Dal governo Di Kiev Che Diciamo Rispetti Anche quella Che vuole essere Un nostro spazio vitale È una situazione Un po' simile A quella Che si è verificata In Catalogna E che è stata bocciata Dal governo di Madrid Senza ovviamente Essere Diciamo In Catalogna Non c'è stata la guerra No però ci sono state Delle rivolte anche lì Mi pare Ci sono state Delle belle rivolte lì Ci sono state In Madrid ha detto Insomma Niente Non se ne parla Certo Certo Io direi Riabbassare un po' I toni Riabbassiamo i toni Guarda Grazie Men Per questo Assist Abbiamo aperto Un attimino Una parentesi Mettila così Attuale Volevamo un attimino Capire Non capita tutti i giorni Non capita tutti i giorni Da avere un siciliano russo Qui in trasmissione Quindi Ne abbiamo approfittato Abbiamo chiesto Un attimino il tuo parere Abbiamo chiesto Abbiamo un attimino Indagato Mettila così Perché noi Noi siamo Noi invitiamo dei polli Noi appunto Mettiamo i polli in forno E poi Poi li cuociamo A fuoco lento Però Ritornando Nello stile dei polli Che è quello di Un'interview leggera Io direi Che sia il caso Di invitare Il man Che mi ha invitato A sua volta Con questo assist A ricambiare argomento A fare la La prossima domanda Guarda Io te la butto così Tu molto probabilmente Ce l'hai in scaletta Ma non è quella che pensi È questa Così cambiamo veramente La titolo donna Allora Man Tu hai già detto Che Tu E Ti piace più La lingua Delle donne russe E questo ok Ma Parlaci un po' Di queste donne russe Che Nell'ideologia comune Del maschio medio italiano Vengono venerate Come De Come Amazzoni Come Sì Come Amazzoni Alte Bionde E focose a letto E che ti vogliamo saltare Addosso Perché Ricordiamo Mi sa che non l'abbiamo detto ancora Cioè Sullo specifico Cioè Roberto È andato a Murmask Roberto Spiega meglio Cosa facevi a Murmask E come utilizzavi il tuo Tra virgolette Mestiere Con il capitolo Quindi con le ragazze Cosa facevi a Murmask Prima di tutto Non utilizzavo il mio mestiere Da rappresentare Ma guarda No no A parte Ho dovuto Cosa facevi dire Io sono andato a Murmask Da fidanzato E voi direte Griderete alla tragedia Alla Alla tragedia Ma che palla Ma come vai in Russia Da fidanzato È come andare a cena E portare già La laringa Impellicciata Il proprio Non può parlare Che è Il proprio Andò in Erasmus In Brasile Con la fidanzata Quindi il proprio Non può parlare Dobbiamo vincere la vendetta Quante non ho sentite io Esatto E però è successo È successo così Infatti è stato un anno Un po' Diciamo da quel punto di vista Pesante Perché la lontananza Se ci siamo passati un po' tutti Insomma Non è facile E l'altra vicinanza Sì E l'altra vicinanza Forse no Come si dice Tentazioni E cose varie È vero È vero che c'è Un certo magnetismo Che esercitiamo All'est All'estero Ma anche all'est E Dalla mia percezione Sarò completamente onesto Perché dicevo Mi piace più la lingua Che le donne Non per togliere qualcosa Perché sono delle bellissime donne Perché nel mio modo Di vedere le donne Russe E avendo conosciuto Anche il mondo russo Abbastanza bene E Non so Forse mi sembravano Sono un po' troppo Ad un certo punto Simili Gli occhi azzurri Gli zigomi pronunciati Cioè Vedevo Dalla mia percezione Mena Meno varietà Delle nostre mediterranee Meno varietà Io dico tanto Di pizza Mangio sempre la stessa Quindi a me Che me pare Aspetta Aspetta In che senso Roberto Nel senso che Cioè Su 30 ragazzi Che hai incontrato Tutte e 30 Erano da 8 a 10 E tu ti sei stancato Cioè vuoi dire questo? No ho detto che Parto dal presupposto Che non potevo E non volevo fare nulla Però diciamo Un saluto Alla ex fidanzata Di Roberto Ciao ex fidanzata Dici perché sei ex? Ma questa è un'altra storia Questa è un'altra storia Questa è un'altra storia No Nel giudizio Diciamo Nel Per quanto riguarda L'appeal Ero più attratto Sono ancora più attratto Dalle mediterranee Trovi quella bassina Trovi quell'altina Quella più scura Quella più Chiara La bionda Il naso Lambra diverse Le Le russe Le ho viste Un po' troppo Belle Ma più Una bellezza uniforme O una metafora Scusate O la metafora Esatto Giusta per te Cioè la russa La paragoniamo Alla Tesla Di Elon Musk Che è sempre più o meno La stessa macchina Invece La ragazza mediterranea La paragoniamo A una Panda A una Clio A una Peugeot Ma vorrei Le ragazze mediterranee Io Tutta la vita Con la Tesla Cioè Roberto Ma di che parliamo Cioè che poi Ricordiamo Che Roberto Se non mi sbaglio Se ho letto bene La sua descrizione Prima dell'interview Tu sei arrivato lì E facevi in teoria Per guadagnarti Un po' di soldini Mettila così Facevi il Professore di italiano E quindi Davi Davi lezioni Di italiano Alle russe Quindi avevi tanto Di quel palcoscenico Per poi Catturarle E portarle Basta Mi fermo lì Corretto? Corretto Diciamo Ti correggo Un po' di più Perché era Tutti gli effetti Diciamo Un lavoro In una scuola di lingue Avevo Nove classi Più organizzato Nove classi Di inglese E tre classi Di italiano Più altre classi Individuali Tutte donne Sì No no C'erano anche Signori Signore Bambini Perché era Una scuola privata Quindi Era Il ventaglio Era molto Ampio Come eri trattato In quella scuola Come Ti trattavano Le ragazze Pure Le MILF Che ti vedevano lì Russe Magari single C'era Quest'italiano Che veniva Da la Sicilia Oh Sicilia Tutto bello Buono Questo pasto Con i frutti Di muare Come Perdonalo C'ha un chiodo fisso Il ragazzo Sì esatto No mi piacerebbe Descrivimi I primi giorni A scuola Quando eri proprio La ciliegina Sulla torta Per loro No loro si svegliavano Tutta doccia C'è l'italiano Andiamo Cioè com'era Com'era Com'erano quei giorni Un po' come lo descrivi tu Devo dire Devo ammettere Devo ammettere Che è stato Diciamo Un interesse Continuo In realtà Non ho mai Sentito ad esempio Frizioni O diffidenza Mi sono sempre Sentito benissimo Molto Ben accolto Sia con i colleghi Con gli studenti E le studentesse Quindi veramente È stato È stato bello Un po' complice Il fatto Come dici tu Che c'è un po' Il mito dell'italiano Quindi quando tu entri Mi ricordo una volta Ho sostituito Una mia Collega Che era in malattia Tutti felici Un gruppo Di Misto di ragazzi E ragazzi Autografi Oh ma tu ci credi Che Ma l'ho sostituito Una volta Quando è tornata La mia collega Fa Le hanno detto Guarda noi con te Non vogliamo stare più Noi vogliamo stare con Roberto Infatti Da allora Le sono andato Un po' qui Alla mia collega Ma ho iniziato A guardare Con uno sguardo Omicida E diciamo Ma perché mi guardi così Perché la classe Voleva stare con me Mamma Ma che Cosa Cioè Descrivi qualcosa Che ti è capitata In classe Qualcosa di Imbarazzante Che ti è capitata Con qualche tua Scolaretta Lì Mettiamola così Scolaretta Però Poi hai fatto L'incontro Con i genitori Cosa hai detto La ragazza Con il bambante Però si impegna No mi ricordo Che c'era Una ragazza Penso Avesse tipo Sui 21 22 anni Che aveva Lo dico senza Diciamo Falsa modestia Aveva una cotta Per me E quindi Praticamente Cioè E mi metteva anche Un po' in imbarazzo Perché io Cercavo di spiegare Una cosa E vedevo lei Era il mio sick instinct Proprio così Sì E avevo anche Altre 12 persone Che stavano in classe Quindi ho detto Mollami un attimo Fammi spiegare Sì Quindi proprio Era A volte mi metteva Un po' di difficoltà L'hai bocciata Per evitare Questo disagio Giusto Promossa a pieni voti A pieni voti Come mai Chissà come mai Chissà come mai Questo Non lo sape Sarà uno spin off Si impegnava molto Si impegnava molto Ha aperto anche La porta di casa Hai fatto anche Delle ripetizioni private A casa No? A domicilio No sì No 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 Quelle no Era soltanto Aprivo la porta Della stanza Però dentro la scuola Addirittura Direttamente Perché c'è proprio Il letto a scuola Assurdo Per gli italiani Quello è il dipartimento L'italiano Un saluto ad Albano Esatto Un saluto ad Albano Che ci ha spianato La strada Con le russe Grazie Albano Grazie Albano Sì esatto Grande 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 Bello Hai avuto Hai avuto anche Qualche esperienza Un po' mistica Un po' strana Anche con russi Che magari Ti hanno fatto Anche la corte La butto lì Sta a domanda Non penso Ci mettiamo contro No Penso che sia No Lì Sì Devono fare molti passi In avanti Da quel punto di vista Ricordate il signore Che ho menzionato Prima Della Colazione Con vodka E salmone Quello stesso signore Arrivato a pesa bottiglia Di vodka Ha iniziato a sentenziare Che ti ha detto Ripeti cosa ti ha detto Ha iniziato a sentenziare Ha iniziato a sentenziare No Perché Ovviamente L'alcol iniziava A fare la sua Parte E quindi Questo signore Ha iniziato a dire Ah voi Europa Gay Europa Perché tutti Si possono sposare Questo è ridicolo Hai detto Oh beh Manco fossi io Ma cazzo Si è un attimo Inalberato E io mi sono inalberato Di conseguenza Però poi dopo un po' Ci siamo abbracciati E sono uscito Con la scuola Dopo altri due shot Ringraziamo Roberto Roberto Per questa Questa piccola parentesi Grazie a questa puntata Ci mettiamo contro Tutti i gruppi Facebook Di LGBT Italiani Grazie Grazie di tutto Però l'errore è stato nostro Che ti abbiamo fatto la domanda E dico proprio il contrario Anzi Li difendevo Ma lasciate fare alle persone Quello che loro sentono di fare Ma lasciate esprimere Ma qual è il problema E loro hanno un po' Questa mentalità Perché non penso che in faccia Ha un buon senso della diplomazia Quindi gliel'ho detto In maniera un po' così Senza esacerbare troppo la situazione Però a proposito Frankie A proposito di esperienze mistiche Beh Io mi ricordo Di una volta C'era l'Italia Che giocava Penso per le qualificazioni Allora 2015 Forse erano qualificazioni europee Non ricordo cos'è Comunque era Partita dell'Italia Tornavo dal lavoro Anno 2015 Aspetta aspetta Ti faccio Una piccola parentesi Man Chi c'era in attacco nel 2015 Nella nazionale italiana Non era l'anno Ecco Man Io mi spardo gli anni Io ti posso dire Chi ci stavano Ma probabilmente ti dico Prima o dopo Zazza Zazza e Pelle Che era quello Il periodo Era quello Perché nel 2016 Che era quando stavamo Tutte e due A Buda Pesterando gli europei Quindi c'era C'era Zazza C'era Pelle C'era Giaccherini Minchiave Un saluto a Giaccherini Ciao Giaccherini Ciao Giacchie Super Giacchie Con questa maglietta Un allenatore Di Under 21 Io ti propongo Come allenatore Da Under 21 Grande Vabbè scusami Roberto Poi sarei potuto andare Sulla difesa Che andavo sul sicuro Perché tanto Non ci barzagli E Chiellini E lì andavo sul sicuro Ah sì sì Con la BCC Proprio Esatto Una bellissima figura Secondo me E no A proposito di questa Esperienza mistica Diciamo Un po' Italiani medi Certe volte Lo rimaniamo anche all'estero Quindi Ma te pare che non guardo La nazionale Allora Tornando dal lavoro Tornando dal lavoro Trovo questa birreria Tipo Mezza scrausa Sgaruppata Proprio Quelle proprio Proletarie No? Per utilizzare il termine giusto Allora Entro lì Tutte birre alla spina Poche persone Ubriache Già ubriache Erano tipo le 7 di sera E c'era Davano La partita dell'Italia Allora Il mio piano iniziale Che era guardare la partita a casa Cambiò Rimasi lì Mi sedetti E guardai la partita lì Ovviamente Capirono Appena apri bocca Che ero straniero E cosa è successo? Perché l'esperienza mistica? Perché praticamente Uno del gruppo degli ubriachi Un russo Tozzo Grande Rosso Questo qua Si improvvisa Si improvvisa Poliziotto E dice No non ci credo Che sei italiano Tu non sei italiano Tu sei russo E stai fingendo Di essere italiano Mi stai parlando apposta Con un accento straniero Per prendermi per il culo Dove stiamo arrivando? Questo qua Guarda Sempre guardando così Mostrami i documenti Mi fa E io tipo Ho detto Cazzo Qua finisce male Questo qua Voleva vedere I documenti Perché non credeva Che io fossi Italiano Dice No tu sei russo Mi prendi per il culo Insomma Qual è stata Tutto quello che ha No la fortuna è stata Che c'era un tizio Più tozzo di lui Più grosso di lui Che ha fatto proprio Il mio angelo custode L'ha spostato Con una manata Così tipo Tratta bene gli ospiti Tratta bene gli ospiti E lasciagli guardare la partita Oh e l'ubriaco Che era già il doppio di me Ha ceduto a quello Che era il triplo di me Che mi ha difeso Mamma mia Un saluto a quello Al triplo di te Dai ciao 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 orsacchiotto Bellissimo Quello è stato proprio Mistico E anche un po' traumatico Però ne sono uscito bene Un po' strana La situazione Un po' da Cos'era? Un ubriacone Ma alla fine Era un poliziotto No ma che Ma questo sicuramente Era lì Un abitué Di quella Di quella birreria E ovviamente Sai anche per rompere La monotonia Cioè nel senso Succedevano queste cose C'era gente che ti rompeva Le palle Perché tipo Ah c'ho freddo Fammi fare una rissa Così riscaldiamo E diciamo Loro Vanno un po' fuori Gli schemi Per rompere Un po' La monotonia Del freddo Insomma Tutto Quell'inverno rigido E quasi costante Che c'è Però Diciamo Al di là di questo episodio Che adesso L'ho voluto dire Perché Era un po' fuori Dalle righe Mi sono trovato Sempre benissimo Non ho avuto Episodi particolari Con persone ubriache Sì però Mai Aggressive Diciamo Questo è l'unico episodio Un po' Rimanendo un po' In tema Consiglieresti Agli italiani Di andare a vivere in Russia Magari quando è finita la guerra Però Quando è Consiglieresti Agli italiani Di andare a vivere in Russia Ti direi Se è meglio Lisbona Alla Russia Ma abbiamo già capito Che per te è meglio Lisbona Ma In generale Consiglieresti la vita In Russia Sì Penso che Almeno Gli si debba dare Una possibilità Quindi Tipo il muro Che noi avvertiamo Tra noi E la Russia Noi e l'Est Dovrebbe effettivamente cadere E Perché sono persone Veramente Lui ci sono sposato Con uno dell'Est Quindi per me il muro È già caduto Esatto Sono persone Diciamo Che hanno Sicuramente una mentalità Un po' diversa Dalla nostra Ma D'altra parte Questo accade sempre Però Mai Avere pregiudizi Andare lì Perché no Provare un'esperienza E io conosco varie persone Un mio amico Di Vittoria Vittoria provincia Di Ragusa Che adesso si è sposato Con una ragazza russa Ha una pizzeria A San Pietroburgo Sta lì da Da sei anni Due bambini E sa Vive Una pizza con i frutti di mare Buona Anche con i frutti di mare Quindi no Assolutamente Dategli una chance Quando ovviamente Passerà tutta questa merda Una domanda Velocissima Sicurezza Polizia Come Come funziona là Cioè sono severi C'è molta Molta Sicurezza C'è un senso Comunque di Di sicurezza E per quello che ho potuto vedere Però non Non prevaricano Cioè Ci sono i poliziotti Ma non Non rompono Mantengono l'ordine Non è come l'Ungheria Che se fai macello Ti mazzurano di botte Se fai macello Lo fanno Però se non lo fai Non ti spingono Non ti spingono Non ti mettono pressione Se tu stai camminando Allora mi piacciono Mi piacciono Ci sta Ci sta E infine Magari te la butto lì Una domanda Cosa fai adesso A Lisbona Fai la stessa cosa Fai il professore In una scuola Oppure hai cambiato settore Come te la passi Magari qualcosina Se vuoi dire qualcosina Lì Su Lisbona Io un po' Come sono le guide turistiche A Lisbona Ecco pure Bruttagente Bruttagente È vitale Ne abbiamo già conosciuta una Tra l'altro Eh sì sì Guide turistiche Diciamo Io ne conosco personalmente due E Non posso parlare Negativamente di loro Sia perché Non lo penso E poi Insomma Uno l'abbiamo qua Ed è Meraviglioso Assolutamente Un grande professionista E parlando di professioni No Io ho cambiato È veramente in grande È veramente in grande Sì ovviamente parlo Ovviamente parlo di man E No Io ho cambiato un po' Il settore Ho iniziato nel settore Del Del customer support Customer service Però adesso Diciamo da quasi Penso un anno e mezzo Quasi due Lavoro come formatore professionale Quindi le persone che vengono a sud Assunte Gestisco classi Quindi alla fine Sono tornato sempre È rimasto È rimasto professore alla fine Sì Bravo Mi fa piacere Scusa che l'ho fatto il nome di prof Quando Cioè Scusa Glielo potevi prestare Almeno per oggi E su Ok Io direi che comunque Abbiamo approfondito Tanti Tanti temi con Roberto Abbiamo affrontato Temi delicati E anche temi Simpatici E io direi Di in teoria Chiudere la Fatidica interview Con la nostra Classica domanda Che questa volta Lascerei al man Fare questa domanda Io ho fatto la prima Io direi l'ultima domanda La fa il prof No Il prof farà un'altra cosa dopo Quindi Diciamo Andiamo 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 col man E andiamo col man Con l'ultima domanda Dell'interview Ecco Torneresti a vivere In Italia Man Anche Magari fra un paio D'anni O così Cioè Nella tua Intenzione C'è l'idea Un giorno Me ne torno In Italia Spiega Spiega anche perché Facciamo questa domanda Però eh La facciamo ad ogni interview Ed è sempre la nostra Ultima domanda Vero Confermo Confermo Quello che dice Cioè qua Confermo Confermo Quello che dice lui Allora Torneresti a vivere in Italia Un anno e mezzo fa Due anni fa Ti avrei detto sì Adesso Diciamo Per La fase Che sto percorrendo Ti dico no E Aggiungo che Preferisco Portarmela dentro L'Italia È una scelta Che fa soffrire Perché Comunque La famiglia Gli amici Rimangono lontani Però Quando parlavamo Anche un po' Cazzeggiando su Il gioco di parole Delle dimensioni Io qua penso Di aver trovato la mia Sto bene E quindi Al momento Non pianifico Di Di tornare Per fare cosa Non mi sento Al momento Di improvvisare Un'altra volta Ho improvvisato Molto in vita mia E per ora Voglio Un po' Placare Questo spirito Di improvvisazione Che ho sempre avuto È un consiglio Che daresti A tutti gli italiani Che ci stanno seguendo Che ancora sono lì Bloccati in Italia Magari Tu puoi lasciare Una piccola speranza Ma Per chi È in Italia È In situazioni Magari Non Facili O Sentono Che Andate Mandate Fatevi Un'esperienza Almeno Riuscite Anche Ad ampiare Un po' I vostri Orizzonti A conoscere Cose nuove E poi Se va bene E volete tornare Tornate Se va male E volete tornare Tornate ugualmente Ma Tornerete con un bagaglio Carico di esperienze Da raccontare Nel caso potete Mandare Il curriculum Alla mail Sottostante Esatto No 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 Non fare questi giochetti qui La parte commerciale Lasciamola fuori Ma viaggiare Raga Essere polli All'estero No Essere polli All'estero È Bello Cioè C'è un carico Di 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 Nostalgia Sempre Inevitabile Però è bello È bello Perché poi È come un puzzle Noi siamo pezzettini Che costruiamo Questo puzzle Ognuno con storie diverse Tipo Ma uno che Che sta da anni In Ungheria O che è stato In Portogallo O che è stato in Russia Hanno tutti Dei bagagli Interessantissimi Di esperienze Da raccontare Tutti Quindi È bello Essere italiani Mai Dimenticare E farlo Ma sì Potresti parlare Veramente ad ore Per ore Per ore Quindi la domanda La domanda è Ti è piaciuto Questo format Lo vedi costruttivo Lo vedi distruttivo Come lo vedi Questo format Lo vedo Potenzialmente distruttivo Ma riesce anche A costruire molto Qua abbiamo Dei corner Di filosofia Assurdi Che distrucciamo Con l'ultima parte Di questa intervista Che lasciamo Che lasciamo Sempre al nostro Caro prof Prof Vuoi lanciare tu La rubrica Del giorno Certo 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 Come Ha richiesto Da tantissimi Fan Che ci seguono È arrivato il momento Del quizone Signori Il quizone È creato per mettere In imbarazzo Il pollo del giorno Perché si sa I polli imbarazzati Sono i più buoni È un'ottima occasione Per mettere allo spiedo Il nostro pollo Il pollo così Diventa più delicato Nella cottura E saporito al gusto Grazie a una serie di spezie Che abbiamo preparato C'è che buona questa polla Prima domanda Che cosa significa Pohoi Che è giapponese In realtà Abbiamo sbagliato Questa è la puntata Giappone Aspetta Sì Perché lo devo dire Pohoi Beh Certo Beh Mi pare Una pietanza Sarà una pietanza È un cibo Che cibo È un cibo È un cibo Sta cercando Guarda Lo sento digitare Guardalo No Guardalo Betto le mani avanti Secondo me Poi Poi È un cibo E c'ha pure le alghe Ed è una cosa orientale Senza pelliccia No Guarda Vedi Non sto cercando Non è russo In teoria In teoria è russa Questa espressione Magari l'ho letta male Non me ne frega Un cibo È certo Che l'hai letta male Pahui Perché Pahui Ah Pahui Pahui E io che ho detto Io che ho detto Sentiamo il replay Beh scusa Poi A parte pure Trasletterato malissimo Quindi Infatti non capivo Ma che cazzo C'entra Qua Cucina tailandese Regista Comunque La regia La regia Pahui Sì Che Praticamente Pahui È più Un Sì Lo Tradurrei più Come sti cazzi Proprio Letteralmente Più uno sti cazzi Quindi Martellone Sì Va bene Prossima domanda Con la seconda Vai Con la seconda L'hai scritta bene Stavolta la parola Dalla regia Cosa significa Per diet Eh l'hai pronunciato bene L'hai pronunciato bene Questo è Questo è Si può dire no? Scoreggiare Scoreggiare La accendiamo allora Per diet Viene associata Associata a Scoreggia Esatto Buona questa scoreggia Con i frutti di bosco No vabbè Ricordiamo E allora Andiamo Ci abbiamo L'ultima domanda Ci abbiamo L'ultima domanda Cosa significa Sputnik Compagno di viaggio Ah ma Ma qua Compagno di viaggio Per un semplice Una piccola chicca Piccolissima Proprio piccolissima Per voi Perché Compagno di viaggio Perché Questo Nick Alla fine Si dice Quando Quando parli Di una persona Mentre put Che non è Quello che state Pensando Put Significa Sentiero Viaggio Percorso E quindi Compagno di Percorso Quindi il puttantour Sarebbe un No scusate Un Un tour Che fa il tour Un trekking E dopo E dopo Questa chicca Che ci ha regalato Roberto Noi diciamo Siamo felici Di aver avuto Roberto In trasmissione Grazie per aver firmato La deribera Per mettere la tua faccia In rete Grazie Ragazzi Avete altre domande Da fare al nostro Caro amico Roberto Oltre a Ti rinvitiamo Quando vuoi Passa da qui Sei sempre Il benvenuto L'hai L'hai salvata La ricerca Della ringa In pelliccia Già salvata Cambiamo gli sfondi Cambiamo il titolo Si si Già cancellato Tutta la storia Bookmarks Non voglio più Saperne L'ho ritirata fuori Dalla mia memoria Dalla mia Damnazio memoria L'ho ritirata fuori Per poterla dire Posso dire Una cosa Velocissima Che Cazzo Dice Parli di Murmansk Stai un'ora e mezza E non lo dici Raga L'aurora boreale Raga Che figata Che figata Babba mia Solo per questo Il nord Europa Senza spingerci Per forza in Russia Ma va vista Almeno una volta Nella vita E' una figata Guarda Se non è una lista Vede cose da fare Giusto Scusami Ma tu sei riuscito A vederlo da Murmansk Perché io l'ho vista Da Quattro volte Quattro volte Città E ho visto Sto cielo Con questo Non si può descrivere E' una cosa Troppo bella Troppo bella Quindi Se andate Nel nord Europa Cercate di farlo Combaciare Con un'aurora boreale Perché è Un'esperienza Irripetibile Come si notano Cioè Ci sono delle Applicazioni Che calcolano Un po' La probabilità Di vedere Un'aurora boreale E Io direi Almeno Fare una finestra Di 6 7 giorni Di vacanza E cercare Di tentare La sorte Nel periodo In cui C'è più attività Da quel punto di vista Considerando Come è iniziata La puntata Oggi Se uno Di noi Quattro Prova Andare a vedere L'aurora boreale Un'altra volta Non ci riusciremo Non ci riusciremo Ma sicuramente Sicuramente Se inizi anche A tagliare Il cane Sicuramente Quindi Il lup Il lup Un'altra volta Il cane Ma no Il cane Il cane Ci ho pensato Io al cane L'avete sentito Non si è sentito più Ah bene Bene Bravissimo Grazie ragazzi Per l'invito Senti Come sempre Come 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 ogni guest Noi trattiamo In questo modo Noi lasceremo Infatti Mettetevi tutti così Noi lasceremo Sotto il video Roberto Lo fai pure tu Esatto Se possiamo Il contatto I contatti Di Roberto Quindi Sei contento Roberto Quindi Qualsiasi italiano Italiana Magari ti vuole fare Qualche domanda O qualcosa in più Magari Libero di contattarti Magari offriamo Come portale Offriamo questa Questa opportunità Di linkare L'italiano all'estero Con l'italiano in Italia Che ne pensi Roberto Sei felice Non ti vedo felice Non ti vedo felice Io penso positivo Perché sono vivo Quindi dai Certo Non c'è pensiero Non c'è problema Grazie per la disponibilità Allora Per i ragazzi Che ti contatteranno E per te Per oggi Averti qui con noi È stato un piacere Ecco Grazie mille Assolutamente Reciproco Ragazzi Un abbraccio Ciao Roberto Ciao 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 Ciao